Noi siamo cittadini romani e ci siamo scocciati di vedere i nostri muri sporcati da coloro che pretendono il voto. Noi ci siamo scocciati del fatto che queste persone prima ci sporcano la città, dopo prendono i rimborsi elettorali per aver sporcato e poi usano i nostri soldi di nuovo per pulire quando lo fanno. Noi ci siamo scocciati e abbiamo deciso di pulire. Quindi noi che siamo una lista civica, la rete dei cittadini, e partecipiamo alle regionali del Lazio e stiamo raccogliendo le firme, noi non attaccheremo manifesti a Roma e il tempo che useremo per attaccare i manifesti lo usiamo per staccare quelli attaccati illegalmente. Se volesse informarvi appunto, informarsi sulle vostre attività e il fatto male, come va? Allora può andare sul nostro sito che è www.retedecittadini.it e noi invitiamo i romani a segnalarci i muri in cui ci sono fenomeni di degrado come questi. Noi arriveremo e puliremo. Ovviamente vorremmo che altri cittadini si unissero a noi. Noi siamo tutti volontari, non prendiamo soldi per questo. Quindi invitiamo tutte le persone che hanno voglia di fare, che si sono scocciati di questa situazione di degrado che non è degna di una città europea, ci aiuti a staccare i manifesti.